Il caso Bicelli infiamma il Partito Democratico e vede il Premier e il Governatore Emiliano due tere a distanza, sangendo un'altra frattura contando di sconfessione pubblica da parte del Matteo Romano al Michele Pugliese a riaprire il caso delle tessere del sindaco del Comune Nord del Barese. Spina ha iscrittosi online al PD con alcune centinaia di seguaci. Il Premier ha detto all'Assemblea Nazionale del PD che non è possibile che al PD si iscrivano in blocco 400 persone con una carta di credito. Non è giusto, non è lecito e non è legittimo. Il partito non si deve scalare con le tessere ma con le idee. Il PD è l'unico partito da avere un bel confronto dialettico tra maggioranza e opposizione. Qualcuno dice anche troppo, Renzi dice che sul territorio bisogna avere la forza di essere dinamici e non accettare operazioni discutibili. Continuano le polemiche dopo la presentazione del piano di riordino ospedaliero sull'argomento intervenuta all'europarlamentare del PD Elena Gentile che ovviamente boccia il piano. Un piano di riordino senza anima, solo valutazioni aritmetiche senza lasciare spazio alla politica, cioè alla capacità di interpretare le norme in relazione ai bisogni dei territori. Una visione aziendalistica che certamente lascerà morti e feriti sul campo. Gentile e profondamente delusa per il declassamento degli ospedali di Cerignola e San Severo. Trasformare gli ospedali di San Severo e di Cerignola in ospedali di base significa cancellare non solo i tanti investimenti che il governo Vendola ha deciso di dedicare a questi ospedali ma significa chiudere reparti importanti. Ma per l'eurodeputata di Cerignola a subire sarà tutta la provincia di Foggia. Chiuderanno le rianimazioni, chiuderanno le divisioni cosiddette chirurgiche minori, l'oculistica, le divisioni di otorino-laringoiatria. In provincia di Foggia si nascerà quindi solo a San Giovanni Rotondo, presso Casa Sollievo della Sofferenza e presso gli ospedali riuniti. Indice puntato non solo su Emiliano ma anche sul direttore del Dipartimento Salute, Giovanni Gorgoni. Mi fa specie che il dottor Giovanni Gorgoni non abbia avvertito la necessità di varcare la soglia dei nostri ospedali, di verificarne lo stato di salute ma anche le potenzialità. Nel mirino finisce pure l'assessore Raffaele Piemontese. Così come è stato proposto questo piano non rappresenta un nuovo modello di governance come ha avuto modo di affermare l'assessore piemontese. Evidentemente anche Raffaele Piemontese conosce poco le dinamiche della sanità, conosce poco la qualità della domanda di servizi ospedalieri. Bisogna avere la capacità di costruire un profilo più basso e soprattutto di ascoltare gli operatori ma anche i cittadini. Uffici demografici, oggi chiusura a Manfredonia. L'Enel ha comunicato che quest'oggi dovrà effettuare alcuni lavori sui propri impianti nella giornata quindi di lunedì gli interventi interesseranno una ben precisa zona del nostro abitato la stessa che si trova al Palazzo della Sorgente qui a Manfredonia dove di parte ci sono gli uffici comunali, in particolar modo quelli demografici e che necessitano di energia elettrica per produrre le certificazioni richieste dai cittadini. In ragione di ciò, quindi quest'oggi lunedì 22 febbraio saranno chiusi al pubblico gli uffici demografici, di Stato civile, certificazioni e carte d'identità. Da domani invece tutto tornerà alla normalità. Se parliamo di sport e calcio, il Manfredonia perde a Biceglie e complica la sua classifica scivolando nella zona play-out. Perde pur non demeritando il Manfredonia a Biceglie e complica la sua classifica lasciando punti per strada contro una diretta concorrente e scivolando in zona play-out. La rete decisiva è stata messa a segno dallo russo al 42esimo del primo tempo. Diverse le occasioni per il Manfredonia che non concretizza con una netta superiorità territoriale. Infatti i bianco-celesti erano subito partiti all'attacco ma non sono riusciti mai a centrare appieno la porta bicegliese. Poi alla fine del primo tempo la rete del Biceglie con lo russo, come abbiamo già detto, e nella ripresa il Manfredonia ancora sempre ben determinato in avanti non è riuscito a concretizzare e a mettere la palla in porta per portare a portare a casa almeno un pareggio. Ora domenica prossima dovrà necessariamente vincere contro il Gallipoli per cercare di risalire la china. Grazie a tutti.